Care ragazze, cari ragazzi, ci vedremo ancora per circa un mese per coloro che dovranno sostenere gli esami di Stato e molto meno per gli altri di voi che dall'11 di giugno si potranno dedicare ad attività ricreative. Il mio pensiero torna indietro a quattro anni fa, quando per la prima volta ho barcato la soglia di questo istituto. La mia speranza era quella che la scuola che andavo a dirigere potesse offrire il maggior numero di occasioni formative in grado di soddisfare le vostre esigenze di crescita culturale e personale. Ho da subito cercato di individuare le potenzialità dell'istituzione che mi era stata affidata cercando di valorizzarle al meglio e spero di esserci riuscita. Lo dimostra il fatto che quando vi impegnate e siete fortemente stimolati, riuscite ad ottenere successi nei diversi campi e anche coloro i quali non si sono mai cimentati in performance competitive sono sicura che nel corso degli anni non passeranno inosservati e saranno orgogliosi di aver fatto parte della comunità del Fermi. La formazione culturale al termine degli studi in questa scuola è solida. Lo dimostrano i risultati che solitamente vengono registrati negli esami di Stato e i giudizi lusinghieri che commissari e presidenti di Commissione esprimono compiaciuti per avervi conosciuti. In questi anni abbiamo attraversato anche un periodo molto particolare e faticoso ma siamo riusciti a superarlo con l'impegno di tutti e soprattutto vostro che nel chiuso dalle vostre abitazioni vi siete dovuti inventare un modo diverso di andare a scuola e di socializzare. Siete stati davvero bravi come i vostri docenti che non vi hanno mai abbandonato in questo difficile compito. Abbiamo preso confidenza con parole nuove come lockdown e DAD ed io ho lavorato allacremente per procurare a chi di voi non ne fosse fornito i device necessari affinché nessuno potesse sentirsi escluso. Ricordo quei mesi in cui nella scuola regnavo un silenzio spettrale. Mi aggiravo per i corridoi senza vita, con non c'era il suono dalle vostre voci, tutto era irreale, proiettati come eravamo in un mondo virtuale. Intanto mi preparavo al vostro ritorno. Le parole d'ordine erano distanziamento, sanificazione dell'aria, igienizzazione degli ambienti e quindi ho cercato di creare ambienti spaziosi, acquistato banchi e sanificatori, perché tutto potesse essere pronto ad accogliervi nel migliore dei modi. E finalmente, quando la speranza cominciava ad abbandonarci, eccovi arrivare, salire le scale, sentire nuovamente le vostre voci. Esistevate davvero? E allora non sapete che gioia ritrovarvi. Ma i ricordi non finiscono qui. Ricordo le tante soddisfazioni nelle diverse olimpiadi, concorsi, campionati, ricordo i convegni, i progetti, i pon, le partite del cuore, le diverse visite guidate e programmate negli anni e i viaggi di istruzione che ho fortemente voluto per potervi offrire l'occasione di un apprendimento in situazione, di conoscere nuove città e poter meglio socializzare. Fra un po' però dovrò lasciarvi, ma sarete sempre nel mio cuore con i vostri sorrisi e la freschezza della vostra giovane età. Il vostro ricordo rappresenterà il ricordo di tutti gli alunni che ho incontrato, come docente e come dirigente. Ci sarà la nostalgia, ma anche la consapevolezza di aver cercato di fare tutto ciò che mi era possibile, dedicando tutto il mio impegno. Probabilmente si sarebbe potuto fare meglio, in altre circostanze, forse. Vi vorrei salutare con l'invito a considerare la scuola come uno dei luoghi importanti ed indispensabili per la vostra crescita. Il mondo moderno pretende giovani preparati, competenti e aperti alla conoscenza. La conoscenza vi permetterà di essere cittadini consapevoli, vi darà la possibilità di essere critici, di costruire il vostro pensiero, le vostre opinioni, nel rispetto di quelle degli altri. Pertanto vi esorto a studiare. Un saluto particolare lo riservo a quei ragazzi che sono costretti a seguire le lezioni da casa, ai quali auguro di tornare al più presto in presenza. Vi abbraccio tutti e spero che possiate concludere con soddisfazione l'anno scolastico e nel futuro raggiungere tutti i traguardi sperati. Salutatemi i vostri genitori.